Buongiorno a tutti, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, è venerdì 3 novembre 2017, è l'ultimo giorno di allenamento per i ragazzi della scuola calcio, il settore giovanile si sono allenati ieri, i giovanissimi e gli allievi, oggi è tutto dedicato ai sordienti, primi calci, piccoli amici e pulcini. Il rettangolo di gioco è già stato preparato a dovere da mister Gabriele, il coordinatore tecnico della scuola calcio del settore giovanile, nonché mister dei primi calci e degli allievi, stanno arrivando alla spicciolata i ragazzi, man mano arrivano, è stato predisposto le porzioni del rettangolo di gioco con le varie attrezzature per gli esercizi ginnici, ecco potete osservare le varie postazioni, già si vede mister Nicola Di Campli, in fondo si vede mister Gabriele Di Felice, con il Kigwey rosso e mi pare dovrebbe essere mister Giulio o Giordano, non lo so. ecco tutto preparato, segmenti, ogni gruppo avrà il suo spazio per gli allenamenti e gli esercizi, pioviscica, ci troviamo verso le 15 e 20, quasi le 15 e 30, qua all'orizzonte si vede due dei portieri nostri, Gianni Perrucci, il ragazzo più alto e Daniel Ucci, quello più basso. Fra poco è arrivato già il preparatore dei portieri, Gaspari Aurelio, che prepara i portieri nostri. ecco, stanno facendo entrare, stanno facendo il loro ingresso, gli esordienti, c'è mister Giordano, Giordano Simone, mister Gaspari si sta portando vicino alle porte con i suoi portieri, c'è anche mister Roberto Verna, oggi è l'ultimo giorno della settimana di allenamento, il rettangolo di gioco già preparato a dovere da mister Gabriele di Felice, ecco, sta arrivando anche mister Giuseppe Gian Cristoforo degli esordienti, a posto ragazzi, bravi, e chi quei ragazzi, pioviscica? un gruppo, alla spicciolata stanno arrivando man mano i ragazzi, ecco, Daniel e Johnny, l'altro portierino, che si... l'altro portierino, che si aggrega con i compagni, grazie.